Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso al coronavirus. In Italia sale l'allerta dopo la verifica di due casi certificati di una coppia di turisti cinesi arrivati nella capitale e risultati positivi al virus e ricoverati in isolamento all'ospedale Spallanzani di Roma. Intanto non cala la preoccupazione da contagio nonostante la massima cautela che da quanto dichiarato dal Ministro della Salute pone l'Italia a un alto livello di sicurezza. Nelle Marche l'allerta relativa al nuovo coronavirus passa per le competenze tecniche del gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie che ha tracciato le indicazioni operative per affrontare l'allerta sanitaria definendo la modalità di prese in carico di isolamento, diagnosi e trattamento e l'attuazione delle più doni e misure di sanità pubblica per contenere l'infezione ed evitare eventuali ulteriori casi. Qualora un cittadino marchigiano, dice il Gores, abbia viaggiato nelle zone a rischio della Cina e dentro i 15 giorni successivi al rientro manifesti sintomi respiratori gravi, può riferirsi al proprio medico curante o contattare il 118 oppure chiamare il numero 1500, numero telefonico di pubblica utilità. La psicosi sulla diffusione del virus non dà tregua anche alle farmacie dove la richiesta è sempre più alta delle mascherine precauzionali. In questo momento iniziamo a fare un pochettino, la richiesta sta aumentando, sta incrementando per cui iniziamo a fare un pochettino di difficoltà nel reperire diciamo, però ancora i nostri grossisti un po' di mascherine ce l'hanno quindi riusciamo a coprire per il momento le esigenze. Il coronavirus può essere trasmesso da persona a persona, i sintomi più comuni includono febbre, difficoltà respiratorie, mentre nei casi più gravi può causare polmonite e insufficienza renale. E' buona norma secondo il ministero dell'interno lavare frequentemente le mani utilizzando soluzioni alcoliche o acqua, evitare contatti ravvicinati, coprire con il gomito flesso la bocca e il naso quando si starnutisce, evitare contatti con chiunque abbia febbre e con animali in aree mercantili.